La teoria degli stadi di sviluppo di Jean Piaget. Chi era Jean Piaget? Era uno scienziato nato a Neuchâtel in Svizzera il 9 agosto del 1896 e deceduto a Ginevra, sempre in Svizzera, il 16 settembre del 1980. È stato uno psicologo, biologo, pedagogista e filosofo svizzero. È considerato il padre fondatore dello studio dei processi intellettivi durante lo sviluppo e questo scienziato si dedicò alla psicologia dello sviluppo. Piaget dimostrò innanzitutto l'esistenza di una differenza tra la modalità di pensiero del bambino e quella dell'adulto. Come è noto, il cervello umano raggiunge una piena maturazione all'età di 24 anni. Lo sviluppo cognitivo secondo Piaget avviene in quattro fasi, definite stadio sensomotorio, stadio preoperatorio, stadio operatorio concreto e stadio operatorio formale. Lo stadio sensomotorio è quello che va dalla nascita ai due anni circa e, come suggerisce il nome, in questo stadio il bambino utilizza i sensi e le abilità motorie per esplorare e relazionarsi con ciò che lo circonda. Nello stadio preoperatorio, che riguarda la fascia d'età dai due ai sei sette anni, il bambino è in grado di usare i simboli. Un esempio di gioco simbolic è quello in cui il bambino ad esempio usa una scatola per rappresentare un tavolo e dei pezzetti di carta per rappresentare dei piatti. Lo stadio operatorio concreto va dai sette anni agli undici anni circa. In questo stadio il bambino utilizza i simboli ed è in grado di manipolarli in modo logico. L'ultima fase è lo stadio operatorio formale dai dodici anni in poi, in cui il bambino riesce a formulare pensieri astrati, quindi lo sviluppo dell'astrazione. Si tratta del cosiddetto pensiero ipotetico-deduttivo che consente di compiere operazioni logiche su premesse puramente ipotetiche e di ricavarne le conseguenze appropriate. In questa fase l'individuo può compiere induzioni e deduzioni, cioè stabilire appropriate relazioni logiche tra fatti e regole generali.